Bella così nessuno se l'aspettava, è la nuova Aprilia Sintesi, la prima 125 dotata di telaio d'alluminio e non soltanto di quello, ha tanti altri pregevolissimi particolari che scopriremo insieme. Sta arrivando ai concessionari Aprilia a 5 milioni e 300 mila lire, tutto compreso. Linee e dettagli sono da sogno a cominciare dalla carenatura, studiata in galleria del vento con doppio faro halogeno e vistoso codone con doppia luce posteriore. Peccato che il telaio sia quasi completamente nascosto perché è una vera chicca costruito con la tecnica delle corse in estruso a sezione alveolare e con piastre stampate. È leggero, 6 kg più leggero di un telaio tradizionale e molto più rigido. Tutti i componenti sono di grande pregio, la forcella anteriore è rovesciata e dotata di steli da ben 38 mm. Il forcellone monobraccio ha la ruota a sbalzo, disco centrale e per la prima volta in questa categoria i cerchi sono da 17 pollici con razze tangenziali. Enorme il disco anteriore flottante da ben 320 mm con la pinza a 4 pistoncini a diametro differenziato, tutto curatissimo per 120 kg a secolo. tutto nuovo anche il motore con il contralbero antivibrazioni, radiatore a larga sezione, carburatore di tipo ovale per la risposta più pronta, cilindro e pistone nuovi. Mantiene il raffreddamento a liquido, l'ammissione lamellare, la valvola Rave 2 allo scarico, l'accensione elettronica, l'avviamento elettrico, il cambio a 6 marce. La potenza è arrivata a 31 cavalli e 8 a 11 mila giri anche grazie alla presa d'aria dinamica Airbox che vediamo è una sovralimentazione vicino al 10% e così le prestazioni sono record con velocità massima ben oltre il muro dei 150 all'ora, la più alta lanciata per una 125 sportiva. Piegare in curva fino a toccare col ginocchio sono capaci in tanti ormai, ma lasciare addirittura le mani dal manubrio non sono in molti. Con questa ricchezza di dotazioni la guida della sintesi è quella di una moto vera, di una 350 addirittura. La progressività delle sospensioni, la rigidità del telaio, l'efficacia dell'impianto frenante al top, tutto concorre ad una stabilità eccellente e ad una grande precisione. Basta scaldare un po' i pneumatici perché i download fa sezione ribassata al bisogno di questa fase per esprimersi poi in pieghe tipo corsa senza alcun disturbo all'assetto e anche la posizione di guida è quella ospitale rassicurante di una vera grande moto. Ecco perché si chiama sintesi, perché concentra un gran numero di soluzioni tecniche applicate nei Gran Premio e così quest'Aprilia spicca nel pur vastissimo panorama delle 125 costruite in Italia, le 125 più belle del mondo. Telaio, sospensioni, ruote, freni, anche look, tutto parla di corse ad un livello tale da fare il passire chiunque e non soltanto i fortunati i sedicenni di oggi. E mi raccomando come al solito, casco in testa ben arracciato, luce ascesa anche di giorno e prudenza.